Con l'abbassarsi delle temperature recenti, ANAS ha intensificato gli interventi sulle strade, concentrandosi non solo sulla gestione di mezzi spargisale e spazzaneve, ma anche sulla rimozione di stalattiti di ghiaccio che si formano naturalmente nelle gallerie. Nella regione Calabria, in particolare nelle gallerie della Statale 107 e Silana Crotonese, tra Camigliatello, Silano e San Bernardo, il personale ANAS ha lavorato attivamente per eliminare le stalattiti e prevenire anche potenziali pericoli per i veicoli in transito. Le stalattiti si formano proprio quando l'acqua, causata dall'umidità e del calo delle temperature, congela sul soffitto del tunnel. La rimozione regolare delle stalattiti è essenziale per evitare malfunzionamenti e danni agli impianti e ai veicoli. Durante queste operazioni il traffico viene regolamentato con senso unico, alternato o chiusure temporanee, garantendo la sicurezza dei conducenti. Alcune stalattiti di ghiaccio possono raggiungere una lunghezza fino a 5 metri. ANAS, la società del gruppo e feste italiane, consiglia prudenza nella guida e fornisce anche aggiornamenti sul traffico in tempo reale tramite l'applicazione gratuita BUY, disponibile sull'App Store e Play Store. Inoltre il servizio clienti, pronto ANAS, è accessibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148.